Benvenuti al saluto del lunedì. Quella passata è stata una settimana ricca di nuove acquisizioni di appartamenti pronti per essere affittati con progetti di locazione ad alto livello di tutela. Sono molti i proprietari di singoli immobili o molti proprietari che per vari timori decidono di lasciare libero l'immobile di cui hanno disponibilità, oppure di venderlo pur di non avere preoccupazioni. Beh, questo è un vero peccato. Ogni singolo investimento immobiliare può dare i suoi frutti a patto che ci siano i giusti requisiti per affrontare il mondo della locazione. Mancati pagamenti, scarse referenze, sfratti e altre difficoltà possono essere totalmente superate con il giusto approccio e con le tutele adeguate di cui disponiamo e che sono studiate appositamente per queste problematiche, così che i nostri proprietari possono davvero stare al sicuro. Se anche tu sei un proprietario e ti senti frenato dai dubbi sulla locazione, clicca sul link all'interno di questo posto e contattami direttamente per ricevere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. Abbiamo selezionato per voi numerosissimi inquilini altamente referenziati e in linea con i requisiti di garanzia di affitto sicuro. Chi aspetti? Sono pronto a rispondere alle tue domande. Fai fruttare la tua casa. Dal vostro Angelo Camilleri Addis, Mr. Affitti Brianza è tutto. Ti aspetto per tutelare il tuo patrimonio immobiliare. Grazie.